Perfetto, voglio guardare tante bolle ha fatto, bellissimo però il lineal Un saluto a tutti ragazzi sono Wolf e benvenuti a questo nuovo video, oggi sono qui su G6 e 5 per mostrarvi una nuova mod Anzi, naturalmente oggi in realtà sono qui anche per far vedere una piccola cosa Infatti mi ero domandato su questa cosa, ma si può sparare sott'acqua? Nel senso ora sono fuori dall'acqua e riesco a sparare Ma sott'acqua? Com'è che funziona? Semplicemente ho pensato, ma, cioè probabilmente mi ricordo tempo fa c'era una mod, non una mod, un glitch proprio su GTA Online dove potevi, potevi uccidere le persone infatti sott'acqua Ed era una cosa bastardissima però funzionava ed era difficile da fare Però comunque in questo caso è cambiata la cosa, le situazioni sono cambiate e oggi riusciamo a farlo infatti tramite mod Però non state ciò spero ancora che ci sia un glitch che lo lasci fare, però per intenderci non so se è possibile ancora, anzi non mi sono neanche informato Quindi boh Quindi la prima cosa che naturalmente andremo a fare sarà quella di uccidere le persone sott'acqua Quindi noi intanto proviamo ad andare sott'acqua naturalmente Come potete vedere non si può naturalmente sparare sott'acqua, non ci fa usare neanche la rotellina per utilizzarla Quindi cosa che bisogna fare? Semplicemente se proviamo infatti, vabbè, lo spazio, andiamo sott'acqua e noi possiamo appunto mirare sott'acqua No, sono fuori dall'acqua, ok Guardate, qui c'è il tipo e non posso cambiare le... Ah, non posso cambiare le armi perché non ho l'HUD Però intanto possiamo ucciderle, quindi Boom, headshot Minchia, me li cadono i soldi Come cazzo fai a fare i soldi in costume? Cioè, come fai? Metti i soldi nel costume Ragazzi, sto sparando gli occhiali, vabbè, non importa E te? Tac, ha la gamba, piccola, piccola Non è morto No, oh, strozo Tiè, minchia Oddio, sembra quello dell'A-Team Comunque sono un po' lontano dall'acqua Però, naturalmente, grazie a una mod riesco a muovermi Sennò dovrei stare per forza proprio fermo Quindi, facciamo una cosa Oh, ale, perfetto, ci sono sbloccati Noi proviamo a distruggere qualcosa Ragazzi, naturalmente, non tutte le mod riescono a, diciamo, metterci, darci la possibilità per l'appunto di... Oh, vai sott'acqua, stronzo, ok Non ci danno tutta la possibilità di poter, infatti, un piccione? Eh sì, un piccione Un cazzo di pesce Questo là ce lo mangiamo, però E vabbè, non importa Eh no, però ci serve per forza vedere l'HOD Se no non possiamo cambiare le armi Proviamo con qualcosa di utile Questo Allora, ragazzi Io ho voluto provarci Ci ho tentato Oh mio Dio, che cazzo di casino Ma non si può utilizzare Aspettate, eh Ok, perfetto L'RPG Se noi proviamo ad utilizzare l'RPG Non ce la facciamo in nessun modo Perché? Perché sono dei figli di puttana Questi qua con l'RPG Praticamente, sotto l'acqua, non si può utilizzare Noi proviamo a sparare a quel corallo E il missile ci rimane bloccato E se non ce lo teniamo Esplode, appunto E moriamo Però naturalmente C'ho l'immortalità Perché se no Sarebbe stimmiare A forza di farsi ammazzare così Questo affare qui Che lancia granate Lancia patate Lancia cagate Funziona bene Almeno, più o meno Anche se non capisco Questo effetto particellare Di poter, diciamo Poi qua ci sono i piccioni I pesci I piccioni Perché c'ho i piccioni in testa C'ho io i piccioni Ok, in GTA San Andreas Non si potevano uccidere Però, oh, qui si possono uccidere Oh, non si può lanciare Ok, non si possono sparare No, ma che è? Non muoiono No, affatto Anzi Mi rischivano i proiettili Figli di puttana Oddio Che cazzo è successo? Minchia, me l'ho davvero così lontano Ok, allora Facciamo una cosa Noi ora Se proviamo a sparare a qualcuno Anche se lo tocchiamo di striscio Esplode Allora, proviamo magari A sparare a qualcosa di più interessante Come può essere Un cazzo di Non c'è un cazzo Oh Prima c'era una barca però C'era gente C'era gente viva Ok, perfetto Noi proviamo a scendere Infatti, per l'appunto E noi ci mettiamo qui Dove cazzo è andato? Non so, sparisse Tum Distruttò È bellissima sta cosa Perché tipo poi Invece di andare a cacciare Non so, i cervi o gli animali Vai a cacciare i pesci O gli squali Proprio a caso Sarebbe bellissimo Infatti Io ho pensato ad una cosa Solamente ora Questo tipo sta scappando Ma non da me Tranquilli Oddio che figata Oddio che figata Cioè no È bellissimo Guardate No ma è spettacolare È spettacolare sta cosa Tra l'altro Ok Noi Ah ok Si può distruggere Perfetto Questi qua stanno tutti insieme Porca puttana Una tripla Noi proviamo ad andare infatti Ad andare in fondo All'oceano Al mare Come si può chiamare Per poter infatti Vedere gli squali E se ne è l'occorrenza Ucciderli Appunto Sarebbe strano Non trovare animali Come squali Pesci Mostri Del genere Del mare Perché gli squali Io non li vedo Cioè sono sincero Non li vedo Eh vaffanculo Stiamo andando in culo ai lupi Veramente È pazzesco Guardate quanto siamo lontani Non vedo più Lo Santos Andate vaffanculo Ok perfetto Scusa Inchiavo Avevo io la precedenza Eh Ormai me ne sono studiate Stavamo studiare le precedenze Quindi non mi possono rompere Il cazzo Tra l'altro Io devo prendere la patente Invece sto a giocare GTA Accidenti a me E vabbè Naturalmente avrò tempo Per studiare No? Foglio rosa garantito Allora il funzionamento Che dovrebbe essere Infatti in questa mod È quella che praticamente Se noi ci allontaniamo Secondo la fisica del gioco Se noi ci allontaniamo Dallo Santos Per tanto Tanto tempo L'aereo inizia a decadere E si distrugge In diecimila pezzi In teoria In pratica È È un po' più complicata La situazione Perché intanto Non riesco a capire Ok Quello là è il mare Perfetto Bisogna andare sempre Verso contro il nord Ovvero sud Però già lo Santos Non la vedo Quindi ci siamo allontanati Ma ecco Appunto Lo sapevo Lo sapevo Allora noi possiamo già andare avanti Perché guardate Basta far così E più o meno ci siamo Vedete Tac Però noi In questo caso È meglio Che scendiamo Quindi Noi schiantiamoci Ora Tre Dos Ok Buttiamoci Apri il paracaduto E figli di puttana Ecco Perfetto Voglio Guardate Tante bolle ha fatto Bellissimo Però Mi sono cagato sotto Oddio Mi sono cagato sotto Animale di merda Vai Venite Venite Figli di puttana Scuola del cazzo Minchia Oddio Mi ho preso malissimo Il cuore Ma c'è Solamente uno di squadra No Dovrebbe arrivarne altri Dovrebbero arrivarne altri Per l'appunto Bisogna fare attenzione Minchia Ma io mi sono cagato Addosso proprio Madonnante Brutto Brutto figlio di puttana E noi siamo ancora Oddio Si è buggato tutto E noi siamo ancora vivi Yeah Sono morto Sono morto A caso Non ho fatto nulla Com'è possibile No 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 Che gioco di merda Che tremendi Sono tremendi in questi casi No perché non ho fatto nulla Appunto Cioè si muore da soli Ma in che mondo viviamo Che figli di puttana Ok ho capito Ho capito Sono dei bastardi Sono dei bastardi Ok mi sono esaurito Per fare questa cosa Ora sono dei bastardi Ok siamo rispondati Alla baia E ora proviamo Infatti ad esplorare I fondali marini Ok da qui Possiamo infatti Muoverci E tipo Taticamente Si può uccidere la gente Magari se abbiamo Dei nemici Magari Ta 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 Pau madonna Come muoiono Ta Pau Pau Minchia Come esplodono male E io sto prendendo I soldi da loro Cioè è bellissimo Sembra l'assicurazione Sulla vita Dove diamo l'è Ah ok Minchia Ma io mi perdo Adesso è da sta cosa Ma è bellissimo Madonna Madonna Se posso in mare così Io ci andrei ogni giorno Ma non è così da me Io essendo di Firenze Probabilmente non vedrò mai il mare Perché naturalmente Non è che sono molto vicino Però comunque Però l'unica cosa che si vedono Che si notano Sono i soldi che cadono Guardate Wow Che ragazzi Però veramente Non so come mai Ma queste cose Non le vediamo mai Cioè nel senso che tipo GTA La Rockstar Ha messo questi effetti Che tipo La barca che cade E crea Una specie di Giustamente Secondo la fisica La sabbia marina sale E quindi praticamente L'acqua Riesce a far salire Questo insieme E anche un po' di polvere Di sabbia Perché infatti L'ha causata questo affare Il problema è Che queste cose Noi non le vediamo Sono effetti Che a me piacciono tantissimo Li sto scoprendo ora Però insieme a voi E non capisco Perché non li abbiano messi Prima Cioè cazzo Cioè non li abbiano messi Perché non si possono vedere Cioè Un'altra barca Dove dovrebbe essere Vi faccio vedere di nuovo Quell'effetto Perché mi sono innamorato Di quell'effetto lì Non c'è sta mezza barca In tutta lo Santos Spiegatemi sta cosa Accidenti Questi qui sono scogli Vaffanculo Ma ragazzi Comunque la cosa più rapica Che tipo Se voi andate sott'acqua La polizia non mi può beccare mai Cioè aspettate Facciamolo Ok ragazzi Ho 6 stelle di polizia La polizia non mi può prendere Perché naturalmente Sono sott'acqua Anzi mettiamo No Se mettiamo l'immortalità Se togliamo l'immortalità Moriamo per asfissia Quindi niente Non c'è sta niente Non c'è sta nessuna Sono premeditati Bastardi Però qui c'è Ragazzi si può usare il minigun? Ma siamo seri? Ma stiamo Scherziamo Ragazzi si può usare il minigun? Ragazzi si può usare il minigun? Però non vedo Da sopra l'acqua Non vedo niente No Non si vede nulla Non si vede nulla Non si vede nulla Eh no Eh no Eh no L'elicottero Però non riesco a distruggerlo No L'elicottero Eccoli Madonna sono tre Non riesco a distruggere neanche uno Questo qua è appordato a riva Ma che pazzia fanno Oddio in prima persona è bellissimo A qualche volta Tipo questo effetto non mi piace proprio Però Oh Si può sparare sott'acqua? No non si può sparare Non si può sparare No aspetta Ah in prima persona non si può sparare sott'acqua? No in prima persona non si può sparare sott'acqua ragazzi Non capisco sta cosa Perché? Vabbè Eh qui si può sparare Se andiamo in prima persona Oh Non ci fa sparare più Vedete? Non ci fa sparare più Non capisco sta cosa Da cosa derivi Però non importa Ok ragazzi Con questo video noi finiamo qui Naturalmente la polizia ci sta cercando Ma non ci troverà mai Per i ragazzi ragazzi Il video di oggi è finito Noi ci si rivede in un prossimo video Oh porca puttana Tiravo una botta contro il microfono Noi ci si rivede in un prossimo video Un saluto da Wolf E bello a tutti Ciao Ciao